Io soy Raffaele Converte Converte La vita amara Comuncio te amo Comuncio te amo Comuncio te amo Olvitate 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 Nadie ti amara Nadie te amara Nadie porque Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo con la distancia y el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con el niño a su mañana Io te amo come l'ombre a su ricordo Io te amo puro grito e il silenzio Io te amo in la forma sobrehumana Io te amo in la alegria e in il canto Io te amo in il peligro e in la calma Io te amo quando gritas, quando callas Io te amo tanto io, te amo tanto io Io te amo come io, te amo come io, te amo Convencete, convencete Nadie ti amara Come io ti amo Come io ti amo Olvitate Olvitate Nadie ti amara Nadie ti amara Nadie ti amara Nadie porque Io ti amo con la fuerza de los mares Io ti amo con el ímpetu del viento Io ti amo la distancia y el tiempo Io ti amo con mi alma y con mi carne Io ti amo con el niño a su mañana Io ti amo con el hombre a su recuerdo Io ti amo puro grito y el silencio Io ti amo de una forma sobrehumana Io ti amo en la alegría y en el llanto Io ti amo en el peligro y en la calva Io ti amo cuando gritas, cuando callas Io ti amo tanto, io, te amo tanto, io Io ti amo con la fuerza de los mares Io ti amo con el ímpetu del viento Io ti amo la distancia y el tiempo Io ti amo con mi alma y con mi carne Io ti amo como el niño a su mañana Io ti amo como el hombre a su recuerdo Io ti amo puro grito y el silencio Io ti amo tanto, tanto Io ti amo como el hombre a su recuerdo No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! Io! Io sono! Alberto Rabin è nostro, Raffaele. Mi stanno sacando il escenario, mi stanno tirando cose. Rosa, flore le mandano, caballero. Seconda, voglio dire una parola, seconda gran presentazione di Raffaele questa notte. Il ultimo finalista, già lo sape, potete seguir votando ancora a través della applicazione di Latina per il suo favorito. Solamente tiene che dare un toque in la foto di suo favorito. Signor Riccardo Moran, ascoltiamo sua opinion. Alberto, non è nessun segreto che le finali di Io sono sono molto emotivi per me. Ver a tutta la gente qui riunida, ver a gli artisti che hanno arrivato alla finale, ver a gli artisti che ci hanno accompagnato in questo cammino, che sono qui in la prima fila e a cui saluto e ringrazio per la sua confianza e il lavoro. Vedo a Juan Luis Guerra, a Elvis Crespo, che sin peluca non se le reconoce, che se io, a Carmelo Sexto. A mi me emociona muchísimo il equipo di Angelito, a quien felicito, e tutti i sui camaraderi hanno corrito a poncharlos, perché non le avisé. Grazie per arrivare così veloce. Alberto, è molto emocionale per me verte a ti nel scenario. Tu provaste varias veces con Io sono, e tu hai molti anni cantando e facendo questa imitazione. E quando hace un'altra settimana ti ho detto che senti che le cose arrivano nel momento in cui uno stava preparato per assumirli. Io non conosco la tua vita, è una cosa che sento al verte nel scenario. De repente, il cammino di alcuni persone è più lungo, perché probabilmente, al margare di quello che va a passare questa notte, lo che a ti ti esperava era questo pubblico questa notte, Alberto. Io non so che va a passare dopo, io non so che a chi va a guanare, ma a ti la vita ti ha dato questa carriera in questo momento, perché è il momento proprio per te. Mi pare è molto emocionante e ti dico benvenuto al scenario, benvenuto a questo scenario che è tuo e il tuo pubblico ti sta dando la benvenida. Eres straordinario. Felicitazioni. Grandes parole di Riccardo in representazione del giurato. Signor, signora, se si usted votò...